Ogni tanto, no? Questi però sono simpatici Questi sono difficili, però sono simpatici Io ho sempre detto, ragazzi, mandateci i vostri video, mandateci i vostri video, mandateci i vostri video Caspita, li hanno mandati! Ci hanno mandati davvero, perché effettivamente ci è arrivato questo video da parte di un gruppo che si chiama Sons E sono un gruppo sloveno Sloveno? Sloveno, di Portorose Portorose Che è una cittadina alle porte di Trieste Di Rose No, vicinissimo a Trieste Senta, c'è una bellissima Dicono, sostengono che sei in Abruzzo Invece no Va bene, a questo punto, in video Allora, noi ci andiamo a vedere questo video, a parte di questa formazione giovanissima Sono tutti quanti ancora studenti Loro sono la bellezza di uno, due, tre, quattro E io vi vorrei solo far vedere cosa c'è scritto nel comunicato stampa Quindi c'è un membro associato e un ospite Quindi veramente Gente seria Ecco, allora noi andiamo a vederci subito il video dei Sons che si chiama When I Wake Proc, vero? Sì, le roc Poemo core, vediamocelo Mamma Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.